Cerchi un sito di crediti sicuro e veloce Golda.com fa per te E se inserisci il codice Paguro Riceverai un piccolo sconto Hakuna Matata ragazzi Ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89 Siamo tornati su FIFA 16 Ma questa volta non Nella nostra Road to Division 1 Ma bensì Nella draft Signori pronti a vedere la nostra squadra Eccola qua Sbom signori ci abbiamo di tutto Da Ronaldo Ammessi a Tevez Signori una squadra Incredibile Una cosa probabilmente voi dite Si ok ma già hai fatto una partita Allora qual è il problema è che io avevo finito Adesso adesso Di registrare FIFA e mi sono accorto Che dato che sto sull'altro PC Che avevo finito lo spazio nell'hard disk Ma non è che finisci lo spazio nell'hard disk E allora la roba ti si salva No ti si corrompe Quindi ragazzi una partita che ho vinto 6 a 4 è andata a fare in culo Mi sembra perché Ve lo vorrei far vedere lo storico Però non me lo dice Tra virgolette Però sappiate che era finita 6 a 4 Ma a noi che cosa cazzo se ne frega Ragazzi per favore Mi mettete 25.000 like Perché se no Vi giuro spacco tutto qualcosa Non Ragazzi non so se voi avete mai registrato un video O se no dovevate registrare un video E farlo vedere a qualcuno Vinci 6 a 4 con dei gol Bellissimi E ti si corrompe il mondo Adesso io Mi piace Mi piace E mo questa sicura la perdo Sicuro A zing Fire Non trova una cazzo De partita L'anima delle meglio Mortacci Dua Trova una partita L'abbiamo trovata Signori Trovata Contro uno Che c'ha l'FCB Non lo dico Se sbaglio Sono casi miei Signori Siamo pronti Vediamo chi c'è Quello contro Poi tra l'altro c'ha tutto Messi Ronaldo Ecco questo qua C'ha una squadra di merda Tra virgolette Perché quello che poi trova Nel draft C'ha una squadra di merda Tra virgolette Passatemi No non c'ha Messi Non c'ha Ronaldo Questo ci aprirà Come una cozza Io già lo so Già lo so io Signori sto Sto facendo Sto facendo Ahi Bravo Bravo così Avevo fatto dei gol Prima ragazzi Mamma mia Che gol Che avevo fatto Oh Oh mio dio Ma che cazzo Ho fatto Poi questo coglione Si chiama 666 Ad efficiente Ma che fai Ritar cacchio Regà ma che gol Ed è tacchetto Ah no Però che figata di gol Madonna Con sto sto cretino Dai Ah che fai Tu piangi Guarda questo Per sbaccare il culo Regà Lo stoppia pure Per troppo Per culo Secondo me Sto facendo ragazzi Un gol inaspettato Almeno per me Ho perso il pallone Ci sono metri ad in posizione Signori l'ho mandata giù Oddio Messi Oddio Messi Vai così Vai così E andiamo Lionel Messi Vieni qua Davanti alla videocamera Ma con quello Con quel piede Ha fatto gol Hai capito Con quello Mamma mia Che stopp Guardalo Tac Un replay anche bello Ci ha fatto vedere Che di solito Sto gioco fa vedere Dei replay Di merda Dai regà 2 a 0 Mamma mia Ragazzi Infermabili oggi Per il momento Ragazzi Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Mamma mia Ronaldo Ronaldo Eh Vaffanculo Ronaldo Bambetta Così Dolcemente Io Vai Non è facile Come Eh Non era facile Ragazzi Era troppa gente Dovevo Smaltire un po' Secondo me E la miseria Devez Stiamo calmi Qua Ronaldo Voglio vedere Se riusciamo Ah Peccato È un po' lento Casorras Devo essere sincero Vai così Vai così Vai così Mamma mia Oddio Non c'era nessuno Sul cross Teso Non ce voglio Crede Regà Vai così Madonna Madonna mia No Che cazzo Regà Stavo per creare Un tiro Che se entrava Mamma mia Se entrava Dico solo questo Aspetta che Aspetta che Eh Mamma mia Che percussione Sarà Perché ti amo La versione Quello è buono Vai Prendilo No Mortacci tua Bravo Mazzancicante Questo qua Primo tempo Finito ragazzi Se non registrate Un pugno A qualche schermo Lo spacco Lo spacco Bellissima partita Da entrambi i lati Ho fatto qualche Tiro in più Ma tipo due Due messi in croce Così lui sicuramente Adesso Porterà Qualche cambio Ma Non c'ho Fino l'acqua C'è una sede Oggi C'è miseria Eh Ha messo Mezzi Ozil E Bale Va bene Non hai messo niente Praticamente D'accordo Porta Tevez Porta Tevez Guarda No No Tevez Madò Tevez Che cosa Mi stavi combinando Madò C'ho tipo Sperato troppo Sapete Raga Vai Sei buono Sei buono Ronaldo No Le corna Tu c'hai le corna Hai capito Tu c'hai le corna Le quernas C'hai Ma che cazzo Stai a faccio Ma dai Ho un cartellino giallo Chi tira Messi Tira Messi Va bene Facciamo tirare Messi Ma Messi Oh mio dio Cazzo Boom Mamma mia Messi Bella E' buono E' buono Cristiano Ronaldo 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 Vai Vai Ronaldo Mamma No Oddio Sporficiata Incredibile Attenzione Non sento i like Non sento i like Guarda Ronaldo Una bomba Porco Due Bellissimo Torrone Torrone Ha fatto gol Terrone Torrone Finita 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 E' viva E' viva la vita E' finita Olè 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 signori Signori è finita qua Incredibile La seconda partita Vinta De fila E non v'ho fatta vedere l'altra Vaffanculo Va 3 a 0 Mio dio ragazzi 3 a 0 Bene bene 9 8 51 7 4 49 Beh ce la siamo meritata Decisamente E siamo a due vittorie Ragazzi Direi che per quest'oggi Può finire qua Perché purtroppo Ve lo fa due partite Ma Niente Sto giro Ci accontentiamo per una Però lei dirò Meglio possibile Signori Se il video di oggi vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Cerchiamo di arrivare A 25.000 like A prossimo appuntamento Vosso in cieca Portato Ciao Ok Intanto la mi sta danneggiando Pure i barbari Contro i barbari Tipo è fortissimo E' fortissimo Non riesco a calare i barbari Della apocalisse insieme Ai